Le grotte dell'Angelo saranno acquisite al patrimonio comunale e intestate al comune di Auletta. È stato messo un punto anche dalla politica alla storica querelle. Con un consiglio comunale straordinario del 6 marzo scorso, il comune di Auletta ha preso atto della sentenza della Corte di Cassazione che nel 2013 pronunciò la parola fine alla controversia circa una servitù di pascolo, rigettando il ricorso proposto dal comune di Pertusa. Il consiglio ha dato ora mandato agli uffici tecnici comunali per gli atti conseguenziali ai fini dell'acquisizione del sito al patrimonio comunale. È storia vecchia la questione, molto delicata, va avanti da oltre mezzo secolo. Dal 1951 in poi una serie di sentenze per dichiarare la demanialità universale delle grotte a favore del comune di Auletta, il cui territorio include il sito. Qualche anno fa, dopo l'ultima sentenza, ha preteso almeno l'aggiunta del nome e il cambio della denominazione in grotte di Pertusa Auletta. Nonostante le decisioni giudiziali, il comune di Auletta ha sempre mantenuto un profilo basso rispetto alla vicenda e anche ora sottolineano che la presa d'atto votata dal Consiglio all'unanimità dei presenti nulla cambia per quel che riguarda la gestione che resta in capo alla Fondazione Mida. Ha un significato strettamente politico, ha precisato il sindaco Pietro Pessolano nel corso del Consiglio. Già in passato ha spiegato qualche precedente amministratore aveva sollecitato la presa d'atto della sentenza, un'attività certamente da espletare, ma che è stata rimandata al solo scopo di evitare equivoci nei confronti del comune limitrofo di Pertusa, visti i rapporti straordinari con i precedenti e gli attuali amministratori, verso i quali tale azione avrebbe potuto essere interpretata a concluso come un affronto. Oltre all'aspetto giuridico e politico, va detto che in ballo ci sono anche degli introiti, sempre utili alle casse di un ente comunale, come sottolineato dall'opposizione, nel lamentare ritardi, il Consiglio sul tema è stato infatti convocato a distanza di oltre otto anni dalla sentenza. Sarebbe stato utile, è stato evidenziato, già investire gli uffici comunali per l'adempimento degli atti e semmai riscuotere anche i proventi derivanti dagli attività produttive, oltre che le imposte sugli immobili presenti.